Per riservare i bambini e i ragazzi dalla cattiveria e dagli scandali, aiutandoli a crescere nella bontà e nella fiducia. Preghiamo. Insegnerci la semplicità del cuore, Signore. Perché i missionari siano i fratelli affettuosi delle persone a cui si avvicinano e annunciano per primo l'amore di Dio verso ogni uomo. Preghiamo. Insegnerci la semplicità del cuore, Signore. Perché sull'esempio di Santa Teresa, i cristiani sentano il dovere di convertirsi ogni giorno come risposta all'amore di Dio. Preghiamo. Insegnerci la semplicità del cuore, Signore. La tua misericordia, Padre, raggiunga tutti i popoli della terra segnati dalla guerra. Perché il dono della pace, che scatturisce dal crucifisso risolto, giunga al cuore di ogni uomo. Preghiamo. Insegnerci la semplicità del cuore, Signore. Perché noi qui presenti impariamo da Gesù, che si fa piccolo nel segno eucaristico, a diventare umili davanti a Lui e in mezzo agli altri. Preghiamo. Insegnerci la semplicità del cuore, Signore. Guidaci, oh Padre, con occhi di tenerezza, così che impariamo ad affrontare le luci e le ombre della vita, non contando sulle nostre capacità, ma sulla potenza del tuo amore di Padre, per Cristo nostro Signore. Canto a pagina 10. Preghiamo. 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 Saluto, Saluto, Santo Signore, Dio del universo, Saluto, Santo Signore, Dio del universo, Saluto, Santo Signore, Dio del universo, Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse, «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse, «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e Ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare la Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e non è con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, presbite il piatto. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella Tua misericordia di tutti i defutti. Ammettili alla luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e Suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Teresa di Lisio, e tutti i Santi che in ogni tempo si curano per Dio, e in Gesù Cristo, Tuo Figlio, canteremo la Tua node e la Tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, parte Dio, Padre, ogni potente, e l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo adesso con le parole che Gesù stesso ci insegnò. Padre nostro, che Gesù stesso ci insegnò che sia santificato per Dio, 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 che Gesù stesso ci insegnò che sia santificato per Dio, che sia santificato per Dio, per Dio, per Dio, misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli, nei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia con voi. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi lascio il dono della Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati e invitati alla cena dell'agnello. 척. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Isc story, vi lascio ieri michi, professori Grazie. Grazie. 139. Grazie. 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 Previamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, accenda in noi la forza di quell'amore che spinse Santa Teresa di Gesù Bambino ad affidarsi interamente a Te e invocare per tutti la Tua misericordia. Per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica per l'intercessione di San Francesco, Dio Onnipotente, Padre, Figlio dello Spirito Santo. Amo. Nel nome del Signore andate in pace. E amore. Canto a Maria a pagina 20. San Francesco, il Signore e la Maria a pagina 20. San Francesco, il Signore e la Maria a pagina 20. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.